Buona serata e ben ritrovati in diretta con l'informazione dedicata al Veneto. In apertura ci sono i numeri relativi alla pandemia da Covid-19 che vedono ancora aumentare i numeri dei contagi nella regione. Con i dati aggiornati andiamo a vedere la situazione. Nelle ultime 24 ore c'è stato un incremento degli attualmente positivi di 954 unità, 1015 invece i dimessi, 34 le nuove vittime. L'incremento totale dei casi di positività è di 2.003 persone. Dati che sono stati resi noti dal Vice Governatore Luca Zaia in conferenza stampa, un Zaia che continua a predicare molta attenzione alla luce anche delle possibili nuove riaperture in vista delle festività natalizie. Andiamo ad ascoltare le sue parole. I grafici che abbiamo visto stamattina in riunione che ha riportato l'ingegner Fattori che si occupa appunto di tutti gli aspetti dei calcoli e dell'occupazione dei posti letto ci dicono che rispettivamente alla situazione ospedaliera noi abbiamo raggiunto diciamo una fase assolutamente della curva che consideriamo diciamo apicale. Siamo arrivati in quello che qualcuno aveva definito pianoro l'altro giorno, nella fase nella quale non si continua a crescere con i ricoveri, con i posti occupati, non si cala e quindi siamo in una fase adesso di stabilità. Ovvio è che questo non può dare indicazione e fare tendenza, visto considerato che voi sapete che il Covid è una realtà assolutamente che riesce a prendersi spesso contro piede e mi spiego. Noi abbiamo rapporti con la Corea che qui tutti definiscono come come si può dire il posto dove l'avanguardia della lotta al Covid sia perfettamente riuscito che proprio stamattina ci dicono guardate per le prossime videoconferenze dobbiamo procrastinare perché abbiamo avuto una recrudescenza del virus e quindi adesso abbiamo i contagiati e abbiamo ancora diciamo siamo in questa fase dove dobbiamo occuparci nuovamente del virus. Così vale per il Giappone. Quindi cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo che è fondamentale che ci sia ovviamente la collaborazione da parte di tutti. Stamattina ho ricevuto una lettera di una signora da fuori regione con una grave patologia oncologica al pancreas e mi dice mi hanno procrastinato di due mesi l'intervento. Non vi dico il resto della lettera. Ecco ai cittadini vorrei far capire che quando ci preoccupiamo degli assembramenti non ci preoccupiamo solo perché comunque possono essere oggetto di contagio e quindi di invio in ospedale e quindi di occupazione di letti. Ma ci occupiamo anche per il fatto che se da un lato la cura diciamo nella stragrande maggioranza dei casi del Covid ha esito positivo è altrettanto vero che un letto occupato da un paziente Covid mette in discussione un servizio ad altri pazienti. Questa è dunque le analisi sotto il profilo sanitario di Zaia. Una Zaia che è tornata anche sulla questione dell'apertura degli impianti sciistici. Tra l'altro la regione Veneto assieme alle altre regioni dell'arco alpino tra cui anche il Friuli Venezia Giulia hanno presentato al governo la proposta di mediazione per evitare un completo tracollo del settore turistico invernale con in sintesi la previsione di una possibilità di aprire gli impianti di risalita in occasione delle festività natalizie per gli ospiti degli alberghi delle seconde case e questo sarà appunto al centro di un confronto che proseguirà anche nelle prossime giornate. Andiamo a capirne di più anche con Ario Gervasuti dalla redazione del Gazzettino. Buona serata e buon inizio di settimana. Buonasera a voi. Questo confronto sulle montagne, sullo sci, sulla stagione invernale proseguirà ma i segnali non sono positivi rispetto alle aspettative degli operatori turistici perché il governo ha già comunicato alle regioni in un incontro che c'è stato quest'oggi, questo pomeriggio, che intende insomma perseguire la linea dura che ha intrapreso anche perché alla luce di quello che lo stesso governatore Zai ha detto e cioè che c'è sostanzialmente una larga inconsapevolezza da parte di molte persone rispetto alla situazione di assoluta gravità ancora per cui qualunque apertura viene sempre interpretata come una sorta di liberi tutti, cosa che invece non è non può essere e quindi il governo ha comunicato che intende blindare il Natale, ci saranno sostanzialmente vietati gli spostamenti anche tra le regioni almeno fino al 10 di gennaio, ci saranno organizzati anche dei posti di blocco autostradali, insomma quindi anziché un allentamento ci sarà una ulteriore stretta da questo punto di vista e noi appunto diamo conto nel dettaglio, il Gazzettino domani da raccontare nel dettaglio di tutto quello che il governo sta decidendo. Ovviamente diamo spazio anche al fatto che il governatore Zai ha evidenziato come la situazione dell'R con T, che è il numero che serve per stabilire qual è l'indice di contagio, è ancora troppo troppo alta e quindi insomma i contagi si stanno sviluppando. Però in compenso almeno c'è una buona notizia ed è il crollo sostanziale della mortalità perché se nello scorso marzo rispetto al marzo dell'anno precedente, del 2019 c'era stato un aumento del 32% dei decessi in Veneto, a novembre c'è un aumento solo dell'1%, questo significa che l'incidenza della mortalità del Covid è decisamente più bassa rispetto alla prima ondata. Merito sia delle cure migliorate ovviamente, sia anche del fatto che pare che il virus stia perdendo la sua aggressività. A questa notizia va aggiunta poi l'intervista che noi abbiamo fatto al prefetto di Venezia, Zappalorto, che è finalmente uscito dall'ospedale dopo averla vista, ce lo racconta lui, davvero brutta, insomma racconta in prima persona, testimonia in prima persona come la situazione negli ospedali per chi ci capita colpito dal Covid e soprattutto per chi come lui finisce poi in terapia intensiva sia davvero precaria e appesa a un filo. Questa e molte altre notizie le potrete leggere domani sul Gazzettino in Edicola oppure già dalla mezzanotte per chi ha l'abbonamento digitale. Grazie, grazie, buon lavoro a Dario Gervasuti dalla redazione centrale del Gazzettino. Noi continuiamo il nostro notiziario a proposito di stagione invernale. Andiamo a vedere il countdown di Cortina per appunto la festività del Santo Natale. Sarà naturalmente un Natale molto più ristretto proprio per tutte queste limitazioni ma la località principe dell'inverno veneto non ha voluto farsi mancare i suoi addobili, le sue luminarie e non solo. Un Natale sicuramente diverso però insomma noi viviamo di turismo, di economia legata allo sci, non vogliamo farci trovare impreparati e purtroppo abbiamo imparato ma abbiamo imparato anche bene a navigare a vista e quindi ci stiamo preparando comunque al meglio. Bisogna essere flessibili, riuscire a reagire anche negli ultimi momenti ed eventualmente verificare se ci sono delle opportunità sia in merito ovviamente all'organizzazione e non è un'organizzazione facile della stagione invernale entrante sia per quanto riguarda gli eventi e le manifestazioni sportive che ospiteremo già dalle prossime settimane. La stagione invernale è molto lunga nella consapevolezza che il Natale certamente incide molto, circa il 35% del fatturato viene fatto proprio in questo periodo, è per questo che in questo momento siamo piuttosto preoccupati degli accadimenti e soprattutto delle decisioni qualche volta difficilmente incomprensibili che potrebbe prendere il Governo. Abbiamo preparato con tantissimo entusiasmo anche in questo periodo di estrema incertezza. Abbiamo pensato che i nostri ospiti, la nostra cittadinanza abbia bisogno di momenti positivi e secondo me uno dei più grandi momenti è sicuramente il Natale. Il Natale esprime serenità, esprime gioia, esprime anche compassione anche per tutte queste situazioni che sono venute a crearsi. Gente che perde il lavoro, gente che vive male proprio questo confinamento nelle proprie case, nelle proprie cittadine di residenza e nel contempo si è anche visto che proprio per lo spirito, non so se è lo spirito natalizio oppure quello che è lo spirito che è intrinsico proprio nell'italiano, c'è tanta attenzione, c'è tanto volontariato, c'è tanta gente che si accorge di queste difficoltà e cerca di dargli una mano anche solo nel decorare un paese come è il nostro che sicuramente se non viene vissuto da quelli che saranno i nostri ospiti, i nostri amici che ci vengono a trovare sarà sicuramente vissuto dei cittadini di Cortina d'Ampezzo. Il Veneto piange la scomparsa di Remo Sernagiotto, già assessore regionale europarlamentare, è morto ieri all'ospedale di Treviso con tutto il mondo della politica veneta che si è stretto attorno ai suoi familiari. I fatali sono stati gravissimi danni celebrali causati dalla ipossia conseguente all'arresto cardiaco che lo aveva colpito lunedì scorso. Ho seguito la sua dolorosa vicenda fin dalle prime notizie che mi erano giunte, ha detto il governatore Zai, abbiamo sperato per giorni in questo momento prima di tutto si resta a sgomenti. Ho condiviso con lui, ricorda Zai, un percorso importante in Regione di Remo, mi ricordo prima di tutto il sorriso, la positività, la voglia di fare, era un concentrato di energia e la vicinanza va alla moglie e alla figlia, tutti i suoi cari. Si è spento l'età di 65 anni dopo un lungo percorso a Gradoni nella politica veneta italiana ed europea. Continuiamo con la cronaca perché sono state 24 ore le ultime strascorse in Veneto che hanno visto diversi incidenti stradali dall'esito mortale. Nella tarda serata di ieri a Villa Franca in provincia di Verona ha perso la vita Luca Belgrado, 28 anni di mozzecane. Lo scontro frontale tra un'auto e una moto è avvenuto lungo la regionale che porta verso la località veronese per il giovane motociclista non c'è stato nulla da fare sul posto ai carabinieri e i sanitari del 118. Nella serata sempre di domenica ha perso la vita anche un 19enne veneziano a Vigonza in provincia di Padova e successivamente alle 20 è morto un altro ragazzo, un 31enne, finito fuori strada con la sua automobile in via prossima a Cinto Euganeo. Si trattava di Niccolò Sinigaglia, anche in questo caso soccorsi da parte dei sanitari del 118, dei vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica degli incidenti. Per quanto riguarda poi ancora la cronaca ci spostiamo a Venezia, in questo caso il periodo natalizio che continua ad interessare le tante attività legate alla città lagunare con il sindaco Brugnaro che nel fine settimana ha inaugurato le varie attrazioni sia in Piazza Ferretto a Mestre sia appunto in Piazza San Marco a Venezia. L'idea è che questo sia ancora il salotto dei veneziani, sia Piazza Ferretto che Piazza San Marco. Oggi siamo a Mestre e stiamo preparando questo salotto perché la gente in prudenza possa però uscire insomma. È un modo nostro per rispondere alle difficoltà della gente, insomma, che si possa stare un po' insieme in serenità, magari dimenticando la durezza di questo periodo insomma. C'è Mestre, ma c'è anche Zellarino, c'è Marghera, c'è Chilignago, c'è Murano, c'è Perestrina. Noi abbiamo cercato in ogni centro intanto di dare un simbolo che è il simbolo del Natale, che è l'albero, che ormai facciamo da diverso tempo, cerchiamo di farlo sempre più bello perché ci si ricordi tutti che siamo della stessa città. E poi sempre di più cerchiamo di valorizzare i luoghi di tradizione, dove le persone si riconoscono e si trovano e si ritrovano. Abbiamo sempre creduto che tutti possono esprimersi, che siamo d'accordo o no, non cambia niente. La cosa bella è che ci possiamo parlare nel rispetto. Il Natale è questa, è una rinascita. Se non utilizziamo il Natale come spirito non c'è solo il commercio l'acquisto. C'è anche il parlare con gli altri, vedere il bambino giocare, pensate in un periodo così di prudenza, vedere le famiglie con i bambini, con gli anziani, insomma è tanta roba, è tanta roba. E vedete che le persone sono molto rispettose, per cui credo sia una cosa bella. A me personalmente piace molto questa serata, mi dà tanta carica, insomma dopo un anno di stanchezza mi dà tanta carica, perché la gente ha coraggio, ha umiltà di essere attenta, perché bisogna giusto avere timore di questa cosa, ma ha anche coraggio perché sa che dobbiamo pensare al domani. Andiamo a Treviso ora, dove invece in molti non continuano a rispettare il le direttive. C'è stata una mega festa in un locale con 120 persone assembrate e 15 fuori che aspettavano di entrare. Una scena del tutto inusuale ai tempi del Covid, ma sono arrivate appunto polizie e carabinieri, sono scattate le multe, la chiusura del locale per cinque giorni è accaduto domenica pomeriggio in Viale della Repubblica a Treviso, dove a sede il Los Zapatas le forze dell'ordine erano state avvertite da una segnalazione di assembramenti e sul posto sono arrivati multati, clienti, proprietari del locale, una cittadina dominicana di 35 anni, tutti totalmente indifferenti dalle regole imposte dell'emergenza pandemica. Treviso però festeggia anche la classifica italiana diffusa da Italia Oggi sul grado di qualità della vita delle province italiane. Ieri vi abbiamo raccontato che su tutte spicca in vetta Pordenone in Italia al primo posto, ma anche il Veneto si comporta bene con Vicenza che si piazza al terzo posto guadagnando diverse posizioni, era 14esima lo scorso anno, eppure Treviso che guadagna ancora posizioni piazzandosi al settimo posto, anzi confermando la posizione dello scorso anno, poi via via tutte le altre province venete e italiane. Noi ci fermiamo qui, è tutto per l'informazione dedicata al Veneto, l'appuntamento torna puntuale, domani alle 20.30. Buona serata!